Un fine settimana che su parte della nostra penisola sarà compromesso da una perturbazione atlantica. Aria più fresca di fatti legata a questa ampia zona di bassa pressione sull'Europa occidentale si getterà sullo Golfo del Leone e darà vita a man mano una zona di bassa pressione che impegnerà il Mediterraneo centro-occidentale anche in avvio della prossima settimana. Per quanto riguarda il nord-est vi segnalo delle piogge sull'area alpina ma soprattutto il nord-ovest sarà guastato dal tempo perturbato in questo weekend con molte nubi irregolari e delle piogge a tratti anche intense sulla Liguria e sui rilevi montuosi del Piemonte e della Valle d'Osta. Qualche pioggia anche sulla medio alta Toscana, altrove maggiori schiarite, soprattutto a sud è un weekend abbastanza buono con clima sempre mite per i venti di Libeccio e Scirocco che si faranno sentire. I dettagli precisi li trovate come sempre sul nostro sito web.